e un calorosissimo e sincero boia de mau a tutti gli iscritti di sala giochi 1980 buongiorno buonasera buon pomeriggio buonanotte a seconda di quando guardate questo video siamo tornati qua alle recensioni di alex oggi ragazzi con una grande puntatona guardate che grafica ragazzi si parla appunto di dragon slayer anzi si parla per diciamo meglio di dragon slayer 2 in questo caso time warp gioco del 1991 partorito dalla mente geniale insomma che altro dire di don blatt pubblicato da cinematronic sviluppato pubblicato scusate da cinematronic poi distribuito dalla leyland corporation insomma ci sono tante tante cose da dire si tratta del secondo capitolo da sala giochi in questo caso appunto della grande grande grandissima enorme saga appunto di dragon slayer che esce otto anni dopo il capostipite il capostipite infatti in sala giochi esce nel 1983 si tratta chiaramente di un laser disc quando all'epoca appunto sembrava che il laser disc fosse la risposta a tutti i problemi tra virgolette di videogiochi perché appunto pensavano che fosse il il futuro appunto il laser disc purtroppo così non è stato e infatti anche questo gioco che esce tanti anni dopo rispetto al primo capitolo purtroppo non ci ha avuto una grandissimo un grandissimo successo o perlomeno non ci ha avuto proprio nemmeno i lacci delle scarpe del primo appunto dragon slayer e diciamo poi il gioco è stato sviluppato è stato portato su tantissime macchine dell'epoca tra cui la mica l'atari st il cdi su windows su dos insomma e anche pensate in tempi più recenti anche su wii e su ps3 e iphone per queste ultime due quindi per ps3 iphone ragazzi c'è anche ci sono anche dei contenuti speciali già una director scat ci sono insomma il making of del il making of del 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 gioco con alcune scene insomma inedite e c'è addirittura un finale che invece nella versione della sala giochi è assolutamente inedito che altre cose che c'è da dire su questa c'è anche la modalità guarda in queste ultime due che che significa la modalità guarda è che semplicemente si può lanciare il gioco e te lo vedi come un film di animazione come stiamo facendo noi qua dall'attrat mondo praticamente e ci troviamo ci troviamo come storia parliamo un po della storia di questo secondo capitolo ci troviamo a diversi anni dopo il primo dragon slayer quando il nostro eroe massiccio il grande dirk riesce a salvare insomma daphne sposare anzi riesce a salvare la sua amata daphne però insomma sapete come si dice purtroppo ha bruciato insomma dei figli ha fatto ha fatto almeno su famiglia infatti all'inizio si apre con la sua gira che vuole legnare subito abbastonate lo vuole prendere e però dicevo non è purtroppo la loro vita tutta rosa e fiori perché perché c'è sempre il perfido stregone morto che con uno stratagema riesce a rabbire la bella conturbante daphne la nostra sposa quindi viene portata nel castello quindi ancora una volta nella tana della del drago perché dragon slayer significa appunto eh tana eh del drago e quindi il nostro carissimo amico dovrà partire in questa eh per questa difficilissima nuova avventura per poterla portare indietro ma non è così facile perché uno dice cazzo ah beh allora è come l'altro non è facile perché perché il perfido infame bastardo mordok che ha fatto ha tramutato il suo fratello cemello in una sorta di una macchina del tempo vivente quindi il nostro eroe dovrà eh viaggiare per diverse epoche storiche e per arrivare fino poi allo scontro finale appunto con il perfido cattivissimo ehm mordok e che altro dire ah c'è da dire insomma chiaramente come state vedendo si tratta di eh filmati laser disc che erano dei filmati delle animazioni che erano pre caricate quindi che che venivano scusa che delle animazioni che tu potevi far cambiare a seconda del movimento del joystick o del tasto azione appunto quindi si tratta di queste scene c'è da eh schiacciare il tasto in un momento o nell'altro del gioco e quindi a quel punto cambia lo svolgimento e quindi si va avanti oppure sì dovrà rifare il pezzo per l'ennesima volta in questo caso c'è da dire che c'è comunque una facilitazione rispetto al primo perché ti apparirà una parte dello schermo tipo destra bisogna premere a destra sinistra sinistra il tasto la spada insomma e quindi c'è un piccolo aiuto cosa che invece insomma nel primo almeno sulla versione prima originale non esisteva succederà poi su space space se non sbaglio che ci sono queste cose che compaiono e su altri laser disc sul primo dragon slayer almeno quello che ho giocato io all'epoca non c'era allora volevo dire poi un'altra cosa che in totale in totale intanto ho alzato un po' il livello in totale ragazzi ci sono otto fasi da dover portare a termine fasi principali quindi e queste sono diciamo in ordine sono il castello poi si va nella preistoria poi si va nel paese delle meraviglie appunto lì c'è il paese delle meraviglie poi c'è il giardino dell'eden la casa di beethoven si va nel 1800 c'è l'antico egitto ritorno al castello quindi si tornerà al castello e poi c'è il salvataggio finale se ci si riuscirà cosa difficile sicuramente impossibile per il sottoscritto però c'è il salvataggio appunto della bella daphne volevo dire in sala ciocchi questo non ha mai generato seguiti invece per le versioni casalinghe è uscito anche un terzo capitolo che si chiama the course of mordred che se non sbaglio è uscito nel 1993 come dicevamo ragazzi è un grande prodotto assolutamente perché i laser disc comunque sono frutto dell'ingegno umano guardate che animazioni guardate insomma che grafica per l'epoca vederli in sala ciocchi era tantissima tantissima roba però purtroppo non c'è avuto forse ha pagato un po' la campagna diciamo anzi ha pagato un po' lo scontro col primo capitolo che appunto uscì otto anni prima e quindi la gente forse aveva ne sapeva già di già visto di già di già sentito quello che si stava facendo e quindi sicuramente non c'è avuto il successo che avrebbe meritato secondo me poi chiaramente ognuno la vede poi ne diventa anche una cosa soggettiva però comunque sia non è che c'è avuto questa grande diffusione o perlomeno non assolutamente al pari del suo illustrissimo predecessore ragazzi io quello che dovevo dire ve l'ho detto andiamo a mettere due crediti perché si gioca con due crediti se non sbaglio vediamo se riusciamo a farlo partire eccolo qua vediamo è se riusciamo che ho fatto il doccato auto cao questo qua niente niente sto babbuineggiando vai vediamo eccolo qua eccolo qua crediti messi ragazzi vediamo se riusciamo non sarà sicuramente cosa fate quanti mesi questi tutti i crediti come so io vediamo eccolo ok press start ok uno o due player ovviamente facciamo un player start forza e coraggio se gliela famo a farlo partire madonna ho rotto il caso solo io ok eccoci qua e l'avventura ragazzi comincia comincia da qua comincia direttamente dalla casa e eccola qua la solgera e vedete qua giallo dobbiamo spostarci dalla parte che indica in questo caso il colore giallo e sinistra spada spada qua dobbiamo saltare giù entriamo addirittura siamo boccati subito spada freccia questa la vediamo oh 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 porca miseria la solgera ragazzi la solgera sta ancazzata nera eh ci vuole a tutti i costi mena oh sto andando bene sto andando bene oh forza e coraggio ma no seguo fatto sto andando stavo andando troppo bene stavo andando troppo bene ragazzi aspettate aspettate ve lo riavvio avevo messo la avevo messo la modalità avevo messo la modalità ragazzi che non potevo morire apposta mi sembrava che non puoi morire scusa e sta dai mi pareva troppo fatto ma ragazzi è troppo è troppo semplice questa di cosa aspetta aspetta che ho sbagliato lascia stare lascia stare ho sbagliato io ragazzi scusate no ecco niente ho sbagliato ok allora ok ripartiamo 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 avevo messo la modalità ragazzi che non potevo morire apposta mi sembrava troppo dico ma è troppo bello che sta andando bene così e invece ragazzi abbiamo fatto subito il primo casino incredibile come sempre combino quando faccio questi tipo questo tipo di giochi eccolo qua dai ripartiamo ripartiamo rimettiamo qui nei commenti però scrivete per troppo bello perché insomma stavo andando bene vai insert coin additional coin e press ok adesso dovremmo partire normale speriamo speriamo facciamo sì sì eccolo eccolo vai adesso adesso gioco io e prima invece stavo facendo la modalità quella lì che che parte da solo e fa tutto da solo quindi era troppo facile spada spada ancora ecco spada ancora infatti ecco adesso sto giocando io è già se visto dopo tre secondi insomma il nostro impavido dirk però che non c'ha paura di niente di nessuno ragazzi guarda quanta è strozza la sogera esogere pure si vido ciò chi strozza ma non è la mia non lo è la mia non è lo posso dire proprio tranquillamente anzi però è un luogo è un luogo comune e infatti mi ammazzava un'altra volta che bastonai che pio è un luogo comune no che dice se la sogera non va mai d'accordo insomma è un classico è un classico vai al provamogli al provamogli cavallo o cavallo o cavallo o cavallo o quadro demona giù no do se non ha fini e niente mi ho fatto il chiappa ma massacrato del bastonale me la fatte insomma di tutti i colori io ovviamente inserisco un credito ragazzi e ci ho messo un credito ci ho messo ci ho messo basta una fama longa non me lo prende non mi prende il coin sicuramente ho toccato qualcosa eccolo eccolo non non mi aveva preso il coin non mi aveva preso il coin il gettone da capo per terza orta quarta sicuramente vai dirk fagli vedere chi comanda chi a casa su fa vedere chi c'è ripantano babbuino come si dice spada spada giù destra grande fino a chi ci siamo riati spada destra ho preso preso l'arco arc spadata destra giù no a dove fa giù niente resta massa granno ragazzi però almeno devo passare il primo livello il primo pezzo e siamo solo alla prima fase ragazzi di fase 8 vedete poi voi capite un po voi guarda questa che non dato se me fa mente mettevo un altro credito per dopo sentite tic tic quelle i crediti sono eh spadata boia de mao se tu giù sinistra giù giù questa spadata giù la io sto di gli altri cosi ma e cazzo devo farli che dovevo farli niente che ho messo adesso l'avevo messo il credito non mi far cominciare a capo però eh sennò meno a tutti oh già venire già venire già venire spadata peccato parolaccia voglia dello straporco daglielo giù Ardek era l'arpia e no sono morto mi ha fatto i mille pezzi sta stronza che non è altro mi ha bruciato mi ha spaccato praticamente la destra ma mi ha sagrato e la faremo a passare su pezzù voi che dite ci riuscirò non ci riuscirò lo farò lo faremo spadata sinistra giù arca miseria l'avevo sbagliato Ardek era spadata destra sinistra destra no lì la spada era e dai ma mi sbaglio sempre allo stesso punto mi è mi sbaglio sempre allo stesso punto porco il demonio quanto mi fa un cazzà vai eh che ho fatto si preso prendilo prendilo spadata sinistra sinistra giù stronza destra e sinistra destra destra spada grande adesso chi giù oh 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 sto andando benino spada ahahahah allo sto andando benino mi sa stramagnato continuiamo continuiamo appena sto andando benino tac morto immediatamente ragazzi giochi di una difficoltà sicuramente importante serviva per fatto è avuta giù i sordi no che madonna ho fatto eh chi non si capiva perché lampeggiava pure la macchina del tempo abbiamo trovato eh questa dovrebbe essere la macchina del tempo spero no non credo sia questa spadata giù spadata la grande spadata giù spadata oh 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 sto andando bene sto andando bene spadata ahahahah mi è sto andando bene questo è un pezzo troppo difficile già me son cazzavo eh già me son cazzavo un pezzo troppo difficile questo mi sembra che sia un po' troppo impegnativo per lo meno spadata che devo fare destra via la chiave no dovevo ammazzarlo eh niente non è varsa manco a spadata chi non è varsa manco a spadata io continuo perché non c'ho paura di nessuno andiamo avanti perché voglio continuare porca miseria se no mi è un veneno come la iene spadata salto spadata giù spadata destra spadata sinistra no poto via chiave lì spadata eh porco diavolo e come sa la fa chi peggia avanti eh non va bene eh non va bene mi sto infervorando si sente che mi sto infervorando eh mi sto abbastanza infervorando eh spadata giù chi è monparato ormai famosa qua adesso posso prendere la chiave provaci chiave presa grande andiamo via chiave la upia andiamo via spadata 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 ah col diavolo e come se fa non è possibile non è è impossibile è impossibile bisogna imparare proprio completamente a memoria se sbagli un colpo ragazzi ti ammazza in un secondo niente e infatti mi ha chiappato totalmente ma bruciato penso che ci siamo finiti pure i gradi stavolta no ultimo gradi dai famo l'ultima partita e poi basta perché se non mi ha fatto passare sapete che poi mi mi incazzo e porca miseria ma che è è troppo difficile dai adesso un attimo va via a ridare la suonava veramente fuori fase fuori fase mi ha fatto veramente il fuori fase mi ha fatto il fuoricampo anzi siamo andati fuoricampo via e niente 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 sono andato fuoricampo ragazzi sono fuori veramente luogo allora ragazzi basta basta così basta così non lo giochiamo più lui intanto qua ci dice che sicuramente non possiamo più bisogna schiacciare per continuare io non ci voglio di continuare ragazzi recensioni di Alex oggi Dragon Slayer 2 Time War 1991 dal genio indiscusso di Don Blatt continuo il sequel continuano le cesta di Dirk che insomma che cominciano nel 1983 con Dragon Slayer appunto il primo il capo stipide in questo caso è un po' semplificato anche se è difficilissimo ma semplificato perché ti dice insomma le mosse che dovrai andare ad eseguire anche se poi eseguirle non è sicuramente cosa semplice io spero l'avete fatto passare un quarto d'ora di allegria io mi so sempre come sempre divertito tantissimo tu hai fallito nel salvare Daphne infatti lui ce l'ha detto subito ragazzi io qua non so adesso non me ne va di scrivere nemmeno il nome bisogna muovere le cose non c'ho voglia comunque sia questo è Dragon Slayer 2 Time Warp 1991 versione da Salasciocchi recensioni di Alex ci si vede settimana prossima o fra 15 giorni con un'altra grande recensioni ciao